Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video, come vedete già dal titolo, oggi parliamo di Uno Rosso, questo particolarissimo film di Natale distribuito da Warner Bros, film di Natale che arriva oggi, 7 novembre 2024, vi parlo soltanto adesso di questo film, già quando è uscito al cinema, perché semplicemente la proiezione stampa l'abbiamo avuta ieri, 6 novembre, noi della stampa appunto. Prima di andare avanti, come sempre vi ricordo di passare giù nel box informazioni dove c'è come sempre tutti i miei link per i miei social, seguidemi anche lì e dove faccio anche altri tipi di contenuti, tratto sempre argomenti come cinema, serie tv e videogiochi. E poi se volete supportare il lavoro che faccio qui e sugli altri miei social, ma specialmente qui su YouTube, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace che aiuta tantissimo il canale. E se volete anche supportarmi economicamente c'è la possibilità di fare una donazione con il profilo Coffee dove potete donare appunto il costo di un caffè, un euro. Allora, andiamo subito avanti, parliamo subito di Uno Rosso, questo nuovo film, uno dei primi film di Natale che arrivano di questa stagione. Facciamolo subito perché praticamente questo video è stato, dovevo registrarlo un'ora fa, problemi al computer, mi ci sto mettendo soltanto adesso, avrei voluto farlo uscire molto prima. Allora, non so se avete eseguito un pochino la produzione di questo film, è stata una cosa estremamente travagliata, tanto che, pensate, di questo film le riprese sono state effettuate già nel 2022, cioè sono circa due anni che questo film è fermo, che ha avuto una marea di problemi, addirittura di altre scene rigirate, e arrivando addirittura ad un costo complessivo di circa 280-290, alcuni vogliono proprio 300 milioni di dollari, che se ci pensate è una cifra allucinante. Non è un blockbusterone gigantesco con un cast enorme, cioè il cast è sicuramente interessante, c'è Chris Evans, Dwayne Johnson, J.K. Simmons, Lucy Liu, Kiernan Shipka, mi sfugge sempre il nome, è l'attrice che fa la figlia di Don Draper, o l'attrice dell'avventura di Sabrina, non l'ho vista la serie su Netflix, comunque sia avuto un buon successo, sapete di chi sto parlando, di questa giovane attrice, che sta lavorando comunque sia molto. Dunque, film che quando poi a noi della stampa ci fate vedere il giorno prima dell'uscita, arriva così a ridosso, anzi non a ridosso, così lontano dal Natale, qualche domandina uno se la fa, è vero che di solito il periodo natalizio è sempre un pochino centralizzato da film d'animazione, Disney, Marvel, però in realtà non esce nulla, cioè forse esce soltanto, cos'è, Oceania, Oceania 2, che esce però a fine novembre, se non sbaglio, tanto passa l'ambulanza qua, perdonatemi, è vero che poi comunque sia dicembre, è un mese in cui poi questi film vengono un po' trascinati nel tempo, nell'arco di quel mese vengono visti, ma i primi giorni, le prime settimane sono quelle più interessanti, esce anche il Gladiatore 2, dunque insomma c'è un po' un mercato che si sta muovendo in questi giorni. Dunque, parliamo di questo film, è un film abbastanza particolare, perché non so se avete visto chi è lo sceneggiatore di questo film, è Chris Morgan, chi è Chris Morgan è uno che finora non ha fatto altro che, penso sia uno dei sceneggiatori più ricchi di Hollywood, perché è lo sceneggiatore capo principale del franchise di Fast and Furious, almeno finché dopo il settimo capitolo, dunque dopo purtroppo la morte di Paul Walker, secondo me sono di quest'idea, perché poi se avete visto i successivi Fast and Furious, 8, 9, 10, secondo me sono dei film molto 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 brutti, non che prima fossero dei capolavori, però avevano un sano gusto dell'intrattenimento, scusate non mi veniva la parola, sapevano divertire, sapevano intrattenere, cose che poi dall'ottavo in poi ho praticamente perso, e lì sono dell'idea che è entrata un po' in cut tra Vin Diesel, che sta dettando un pochino legge su come fare questi tipi di film, su come gestire tutti i personaggi, vabbè ma lasciamo perdere, non stiamo parlando di questo. Uno Rosso, che ha poi questo titolo veramente tremendo, è un palese tentativo di far partire una sorta di franchise cinematografico, che secondo me difficilmente partirà, allora il film per tagliare subito la testa al toro non è brutto, è buono, si può vedere, però proprio tutto quello che l'ha portato a far crescere così tanto il budget di produzione, molto probabilmente lo fermerà lì, lo fermerà lì, perché o è un film che incassa un miliardo, perché comunque sia una roba del genere, devi arrivare almeno a 600, 700, 800 milioni di dollari, se i dati di produzione, di costi, sono veritieri, perché altrimenti è veramente tosta rientrare in un budget di tal calibro. Però, complessivamente, l'operazione è anche interessante. Io vi devo dire una cosa, non ho visto praticamente niente di questo film, neanche un trailer. Poi quando sono andato alla proiezione stampa, sono portato con me anche mia moglie, lei l'aveva visto un trailer, cioè sì è carino, è una roba del Natale, rapiscono Babbo Natale, ho detto mamma mia che roba. Quindi lo sono andato a vedere proprio senza aver visto nulla, neanche un trailer, e devo essere sincero, comunque sia, è anche abbastanza carino l'Incipit, però è costruito su delle semplificazioni davvero banali, cioè c'è questa idea di come nel mondo odierno i miti esistono, Bigfoot, il cavaliere senza testa, tra questi c'è anche Babbo Natale. Tutti questi miti vengono gestiti da una società, una società segreta possiamo dire, che è una roba tipo Man in Black, ok? Esattamente la stessa cosa, cioè una società di cui i governi del mondo sono a conoscenza che esiste questa roba qui e loro cercano di gestire, controllare i miti in tutto il globo, di qualunque paese, nazione, quel che sia. Babbo Natale è un mito mondiale, è ovunque, va benissimo, e che succede? C'è il regno di Babbo Natale, che con poca fantasia è situato al polo nord, ma è nascosto dagli occhi indiscreti. C'ha questa cupola che rende, tipo cupola specchio, fisicamente la cupola si può toccare, ma specchia l'ambiente circostante, dunque lì sembra che non c'è niente. È un mondo parallelo, è come se fosse una grande città, una grandissima città, tutte le sue strutture, Babbo Natale ha una slitta che sembra più un'astronave, possiamo dire una cosa del genere. È tutto bene. Poi che succede? Un giorno, la vigilia di Natale, cioè praticamente 24 ore prima del Natale, Babbo Natale viene rapito da un personaggio, non so se c'è nel trailer, dunque non lo dico chi è. Perché qui fa parte della mitologia. E dunque c'è questa guardia del corpo, che è Dwayne Johnson, che fa parte della ELF. Una cronica, una sigla, ma vabbè, abbiamo capito a cosa fa riferimento. Che deve cercare Babbo Natale. Per cercare Babbo Natale si affida all'esperienza di un segugio umano, Chris Evans, per trovare Babbo Natale. E quindi questo è il pretesto per avdentrarsi in tutto questo mondo, un po' così. Ecco, immaginate che il succo finale a livello produttivo, non so se avete mai visto un film terribile a mio avviso, ma so che c'è qualche stimatore, R.I.P.D. Era un film con Jeff Bridges e Ryan Reynolds, che cercava di... Anche quello però è tratto da un fumetto, se non... Anche no, questo non è tratto da un fumetto, no, non credo. No, è un sceneggiatore di Chris Morgan. E R.I.P.D. invece è tratto da un fumetto, ed è un po' quel semplice lavoro di produzione, dove si prende lo stilema del Buddy Movie, già in un periodo in cui un Man in Black 3 era stato un successo per un grande miracolo, più per forse nostalgia che altro. Quel film, infatti, ricordo che R.I.P.D. fu un mezzo flop. Addirittura, meno di un anno fa è uscito il 2, di cui nessuno sapeva che esistesse, ma chiaramente non c'è né Jeff Bridges né Ryan Reynolds. E dunque, che cosa succede? Ci sono i pupazzi di neve che sono degli sgherri di questo personaggio malvagio, c'è il fratello di Babbo Natale, Babbo Natale è Nick, perché lui si chiama San Nick, Nicholas, non lo so, vabbè, ci sono queste cose, poi c'è... Sicuramente è una storia anche che lavora molto sulla mitologia di questi personaggi, come vengono trattati di paese in paese, quindi sotto questo aspetto era anche molto interessante. Oppure, una cosa carina che mi è piaciuta nel film, questa la dico, non è uno spoiler, è che i negozi di giocattoli ha un po' qualcosa di Harry Potter, cioè si vede che Chris Morgan ha un po' visto tutti gli Harry Potter per capire un po' come sfruttare e come creare una forte mitologia, dove per esempio tutti i negozi di giocattoli sono delle... delle porte dimensionali, non so spiegare bene, che tipo, io devo andare, che ne so, devo andare in Francia, allora vado in un negozio di giocattoli qui a Roma, apro una porta con una chiave speciale e mi ritrovo in un negozio di giocattoli in Francia, è un teletrasporto istantaneo. È una stupidaggine, però comunque era parecchio piacevole. E c'è tutto questo discorso delle porte, ovvero che le porte si aprono, ma aprono ad una dimensione di cui se te poi hai l'ennesima chiave, ti porta in una dimensione oscura, c'è il regno del personaggio X, un regno del personaggio Ypsilon. È tutto qua il film, sono circa due ore, estremamente divertenti, colorate, pieni di effetti speciali. Il film mi è piaciuto? L'ho detto mediamente sì, non l'ho trovato estremamente coinvolgente, anche perché si vede che effettivamente è stato un progetto che ha avuto diversi problemi, specialmente produttivi, anche sul fronte del montaggio. vi capiterà, che poi un po' mi dispiace, perché c'è quella sensazione un po', e poi il regista è lo stesso, di vedere i primi due Jumanji, quelli nuovi, no? Che sono stati fatti con Jack Black, Dwayne Johnson, appunto. Il regista è sempre lui, dunque un pochino ti aspetti una certa solidità nella struttura. Anche qui ti aspetti anche, anzi non ti aspetti, ti ritrovi una palese intenzione di creare un nuovo franchise, però con questi costi così alti e grossi e pompati è difficile. Ma è chiaro che quando puoi sfrutti questo contesto di poter giocare con la mitologia, puoi fare di tutto e di più. Però il colpo d'occhio, ragazzi, devo essere sincero, è molto fastidioso. Nel senso che se nelle fasi finali si vede una grande cura per la realizzazione estetica dei mondi, e alla fine c'è una realizzazione di questi mondi, di alcuni stilemi decisamente pacchiane, prive di originalità. Cioè l'idea che sì, al Polo Nord c'è la grande metropoli di Babbo Natale, ma è nascosta dalla cupola. Sono un po' delle scemate, è una roba tipo Wakanda, ok? Per darvi un esempio. Ma è una roba che potessi trovare un pochino ovunque. Però al tempo stesso l'idea che la slitta di Babbo Natale sia una sorta di astronave, e non lo so, Babbo Natale non è un Babbo Natale con la pancia, la barba luce, la barba ce l'ha, non è così lunga, ma è uno atletico. E dunque deve fare i pesi, fa le capriole, è una roba tipo la Mission Impossible. Giocano un po' anche con questi poteri, questo bracciale con cui si può rimpicciolire, far tornare alla dimensione originale delle cose. Dunque i regali che Babbo Natale porta, in realtà, li mette tutti in un borsellino e poi li tira fuori e li fa diventare grandi. Dunque lo spazio viene ottimizzato così. Il grande dubbio del film è proprio, sono nelle motivazioni, spesso e volentieri. È un film di Natale, dunque in qualche modo smuove quasi sempre quelle ricerche specifiche del tipo è Natale, vogliamoci bene, il Natale è sempre più dei bambini e meno degli adulti, scusate colpito il microfono, quando invece si vorrebbe, cioè il film vorrebbe cercare anche quella parabola del tipo tre, te, adulto, ritrova il bambino che è in te. Ma non è questo il film, perché spesso e volentieri le emozioni che vengono veicolate non hanno mai un grande supporto. Il fatto che Chris Evans sia un personaggio un po' disilluso dalla vita ed è un po' così, è un segugio, ma è uno che ha una famiglia un po' disastrata, non crede a nulla. Tutto questo perché lui non crede, da bambino era uno che voleva sfatare i miti. Sono un po' stupidaggini. Già il personaggio di Dwayne Johnson è un personaggio fantastico, la guardia del corpo di Babbo Natale, dice che ha tipo 700 anni, insomma, quindi è già una roba diversa, ci puoi credere. Cioè, Dwayne Johnson, il personaggio suo, non ha bisogno di un background, cioè, avrei preferito un pochino di più un background del personaggio di Lucy Liu, che è il capo, il direttore di questa società che controlla le, come si chiamano, le creature mitologiche nel mondo, perché a un certo punto lei comincia a combattere e tira fuori dei tonfa e comincia a picchiare tutti, tonfa elettrificata. Improvvisamente lei è un'abile guerriera, tu fino a quel momento sembrava la classica cravattona, cioè, chi decide, no, tu devi fare questo, fai attenzione, allora io ti mando il jet, ti mando i miei uomini, insomma, una roba un po' così. Anche il personaggio di Chris Evans è il classico personaggio che non gliene frega niente, di niente e nessuno, per sempre avere questa sua grossa disillusione, ma al tempo stesso è poco credibile nel ruolo del più grande segugio, il più grande hacker, uno che trova tutti nel mondo, cioè, sono proprio due cose che fanno fatica a incontrarsi, è una roba veramente un po' fastidiosa. Però, ripeto, globalmente l'ho visto, mi ha divertito, secondo me, paradossalmente, il film è meglio in tutta la sua seconda parte, cioè, dovessi dividere il film in due con un'accetta, la seconda ora è la migliore. La prima è quella più problematica, e per quello che potete vedere, ve ne renderete poi conto quando lo vedrete, è anche quella realizzata peggio, è la parte anche realizzata peggio. Ed è un peccato perché si vede, cioè, è un film che ti dimostra proprio che ha avuto grande difficoltà nella produzione, sono anche curioso di vedere che cosa sia successo nel dettaglio, ma è un franchise, secondo me, nato-morto, perché, ripeto, soltanto per i costi. Poi, magari, fa come Man in Black 3, anche Man in Black 3 è stato il terzo capitolo, è costato una marea, quasi quanti due blockbuster, per i tanti problemi che ha avuto, e invece è riuscito a incassare tantissimo, 700-800 milioni, non vorrei di una stupidaggine, ed è rientrato in tutti i costi, generando anche profitti. E certo poi l'hanno finito lì, perché poi fecero quel Man in Black International, che fu veramente imbarazzante. Qui, più o meno, ecco, vedo la stessa cosa. Non ho molto da dire, perché è veramente un film così secco, preso, diretto, non c'è molto da raccontare, è il classico blockbuster per tutte le famiglie, ve lo posso consigliare sì, perché complessivamente è ben confezionato, ma è evidente che ha diversi problemi. Sono anche lontani i fasti di una solidità tecnica artistica, come per esempio i due Jumanji, cioè si vede proprio che qui qualcosa si è rotto, qui qualcosa non è andato come doveva andare, e lo vedi proprio nel film, cioè si vede che fa fatica a decollare spesso e volentieri, ha delle buone trovate, però complessivamente non ha la giusta struttura narrativa per sorreggere tutto ciò. E secondo me è proprio una mancanza di Chris Morgan, non come una critica forte, bensì secondo me anche lui ha cercato un po' di... cioè è un film che vuole proprio dirti dobbiamo fare un nuovo franchise, facciamolo con questa roba qua, andiamo a creare la mitologia, un franchise di storie dietro la mitologia di Babbo Natale e affini, partendo con l'idea di Babbo Natale. Non lo so, poi magari è un film così semplice che non voleva fare nulla, ma ci sono troppi dettagli che vengono buttati lì. Cioè ci sono gli Elfi, ma tu gli Elfi non li vedi mai? Non so se mi spiego, li intravedi, li vedi qualcosa, ci sono dei personaggi marginali che non capisci se è un problema di montaggio che sono stati eliminati durante la produzione, oppure magari poi più avanti con un altro film ci sarebbe stato modo di approfondire quella parentesi, non lo so. Io comunque sia per ora vi saluto qua, vi chiudo il video qui, vi dico andatelo a vedere perché non è malaccio, cioè se avete, è il classico film che con gli amici uscite il sabato sera ve l'ho andata a vedere, è molto molto buono, è divertente, non è niente di che, ecco, complessivamente, è una roba, potrei dire, anche dimenticabile, però potrebbe sorprendervi, perché no? Però io, ecco, ve lo dico, è un buon film, ma niente di che, veramente, rimane un po' così, manca di guizzi, manca di qualche elemento brillante, di qualcosa per cui davvero te lo ricordi. E ripeto, la seconda parte è la migliore, secondo me. È fatta molto molto meglio, è più coesa, e si vede che parte da qualcosa che prima era forte. La prima parte, secondo me, è un grande disastro, è veramente difficile star dietro a tutto quello che succede. Però andate a vederlo e mi direte poi voi la vostra. Quindi nulla, ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo video, iscrivetevi, lasciate un commento, ne parliamo sotto nei commenti, come sempre, box informazioni di tutti i miei social, e noi, come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!